e poi puoi parlare di un'esercito si, e vivere la atmosfera ma soprattutto se anche per il maschio io non ho l'interno per capire a me che faccio bene 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 io magari due cose che hai mai detto adesso mi sono mai detto e magari due cose a casa mi piace di più no? mi piace leggere sapere le notizie Salvatore questo spirito di squadra nasce in prossimità di un pullman ma nasce anche alla sera pochi cellulari ma tanta voglia di stare assieme beh questo è un percorso che inizi da lontano cioè devi creare il gruppo giusto devono essere le persone giuste i compagni simpatici cioè deve avere tutto un insieme di cose e compagni simpatici ci sono? uno ce l'hai di fianco c'ha anche la maglia verde le decine abbiamo abbastanza non so forse le selezioniamo prima prima di acquistarli quindi questa è un po' la fortuna della squadra ma siete ragazzi che parlate di tutto? o c'è un argomento in particolare la musica che vi accomuna? diciamo un po' di tutto magari un po' più di ciclismo quasi sempre la sera si ricomenta un po' la gara si ricomenta la corsa le altre notizie chi è il più di voi? chi è un pochino quello che tira le fila? tolto i direttori sportivi che quello è il loro ruolo ma tra di voi chi è un po' quello che dice ragazzi però lì abbiamo proprio toppato ah no cerchiamo di essere autofidici di solito dopo le gare facciamo una mini riunione e parliamo un po' di quello che si può migliorare però il sentiment è che appunto si fa sempre un po' meno gruppo tra le nuove generazioni ci sono molti social i social potrebbero essere un problema per creare appunto questo affiattamento questa magma penso che sulle nuove generazioni c'è meno dedizione al lavoro quindi tanti vogliono fare leader e quindi dopo la tappa viene fuori un po' di competizione tra un compagno e un altro e quindi automaticamente crei l'effetto cioè dentro il gruppo delle tensioni quando può una squadra in parte con degli obiettivi chiari è già diverso sai chi è leader, sai chi lavora e quindi l'armonia dentro è diversa grazie grazie